Il piatto avvelenato che emerge in queste ore è stato purtroppo cucinato con alcuni ingredienti tipicamente lombardi. La tentazione di ricavare soldi sporchi da grandi opere pubbliche, lo stupro dei nostri territori in nome di interessi inconfessabili, la vicinanza tra certa politica ed organizzazioni criminali, la miopia di chi continua a negare queste evidenze. Ora, in attesa dell'esito delle inchieste giudiziarie servono fatti, serve che il vicepresidente del Consiglio regionale Lombardo, Nicoli Cristiani, si dimetta, serve che ci si doti di strumenti ordinari e straordinari perché certe tentazioni non si ripresentino in futuro, magari in occasione di Expo, serve che i disonesti vengano defenestrati dalla politica e serve che l'uomo che da quasi vent'anni personifica il potere in Lombardia in tutte le sue declinazioni, Roberto Formigoni, collega di partito dell'arrestato Nicoli Cristiani, esca allo scoperto e si assuma finalmente le proprie responsabilità. Il tempo delle ipocrisie è finito.